Una comunità dolorata, quella di un buon vicino, centro pedemontano dell'Alto Tirreno Cosentino, che ieri sera per i funerali della piccola Gaia Piccarro si è stretta intorno al dolore della famiglia. Lutto cittadino, dichiarato con un'ordinanza dal sindaco Ciriaco Biondi, bandiera a mezz'asta e richiesta di sospensione di ogni attività e spettacolo, a cui la comunità ha risposto in un silenzio attonito e si è ritrovata nel sacrato della chiesa di San Ciriaco Abate per l'ultimo saluto a chi la vita l'aveva appena sfiorata. Così il parroco Don Salvatore Vergara nella sua omelia. Lunedì 28, il corpo inanime della bambina è stato ritrovato nel letto di casa accanto a quello della madre, Romina Maiolino, ricoverata in terapia intensiva presso l'annunziata di Cosenza. L'ipotesi più accreditata rimane quella dell'inalazione di monossido di carbonio, come da indiscrezioni sull'esito dell'autopsia del corpo della bambina. Sin dall'inizio l'attenzione dei carabinieri della compagnia di Scalea, diretti dal capitano Alberto Pinto e del PM Maria Camodeca, si è rivolta alla caddai esterna della casa, la quale è stata posta a sosto sequestro e dove i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza stanno effettuati accertamenti tecnici per cercare di capire la reale dinamica dell'accaduto. Un incidente domestico dai risvolti ancora incomprensibili. Grazie! Grazie!